Frena un secondo, Albert. Lei sa che vuol dire alzarsi ogni mattina, sentendosi disperati, pensando che il tuo amore si sta svegliando con l'uomo sbagliato, ma allo stesso tempo, sperando che lei trovi la felicità, anche se non la troverà con te. Tu sei fuori di testa, oltre ogni immaginazione. Questo lo sai? Sì. Allora va bene. Ah, sì? Bene? Lo sai chi era Michelangelo? Sì. Conosci la Cappella Sistina? Sì. Michelangelo, Cappella Sistina. Cioè, ce la puoi fare? Io mi chiamo Alex Hitchens. Andiamo a dipingere questo soffitto. Hai. Hai. Hai.